Bentornati su Notebook Italia, oggi abbiamo un unboxing davvero particolare perché all'interno di questa voluminosa valigetta troviamo lo Zhiyun Crane 3S, un gimbal che potremmo definire Pro. Andiamo a scoprirlo assieme. Come sempre però vi ricordiamo che qui sotto potete farci tutte le domande del caso, le curiosità che volete sapere e a cui noi cercheremo di dare risposta poi durante la recensione, oltre che naturalmente qui sotto potete lasciare un like se anche questo contenuto vi è piaciuto. Ma per prima cosa vogliamo fare una menzione d'onore per la borsa per il trasporto del gimbal stesso che è realizzata estremamente bene, ha una comoda malindia poi per facilitarne gli spostamenti e due clip per andarla a richiudere. Il materiale è un simil polisterolo ma sembra di ottima qualità oltre a essere poi di un grigio che è gradevole anche professionale. Aprendola all'interno troviamo una versione super accessoriata con tre batterie standard Zhiyun removibili da 2600 mAh l'una. Queste si possono caricare attraverso una classica basetta per la ricarica che però ha un ingresso Type-C fantastico. Abbiamo poi una slitta con dimensioni di attacco tipo Manfrotto di ottima qualità e graduata così da poter facilmente andare a ritrovare la posizione corretta una volta che andiamo a rimontare tutta la nostra attrezzatura. Le due piccole protuberanze poi che vedete inferiori lato fotocamera possono essere utilizzate per andare ad assemblare un ulteriore accessorio. Sempre nella valigia infatti troviamo un supporto per lenti anche questo realizzato con estrema cura con una vite zigrinata color rotone e tessuto sulla parte in cui vado ad appoggiare la lente e quindi può essere facilmente assemblato andando così a supportare le nostre ottiche particolarmente ingombranti. E nel caso poi di ottiche corpi macchina ancora più grandi possiamo inoltre ad assemblare altre due prolunghe a cui successivamente andare a mettere il supporto per le ottiche che abbiamo visto. Abbiamo poi un ulteriore supporto per telecamere e fotocamere che rialza leggermente le stesse in modo da non andare a interferire se abbiamo delle ottiche più ingombranti del corpo macchina. Un altro accessorio che troviamo è una piastra che dopo essere stata assemblata direttamente sul gimbal potrà essere utilizzata come supporto per monitor esterni o per altri tipi di sostegno magari per smartphone o tablet e anche questa realizzata in modo perfetto e con cura. E altro accessorio poi fondamentale che troviamo all'interno è un treppiede richiudibile che quindi può essere utilizzato sia come supporto per il gimbal che anche come maniglia aggiuntiva con cui andarlo a manovrare. Anche questo accessorio è comunque realizzato bene con una plastica morbida e leggermente zigrinata in modo da favorirne la presa. Presente poi anche il logo dell'azienda inciso. Come ultimo accessorio poi troviamo lo smart sling. Questo optional è consigliatissimo soprattutto se avete delle camere compatibili con i comandi rapidi di Zhiyun e vi lasciamo qui in descrizione un link al sito ufficiale in cui potete verificare se la vostra camera rientra tra quelle compatibili. Anche questo come tutto il resto realizzato con estrema cura, le plastiche sono morbide e i componenti privi di difetti o sbavature. Sulla parte frontale troviamo un piccolo display OLED con la possibilità di andare a selezionare in modo rapido i modi di ripresa e assieme poi con i comandi posti sul fianco sarà possibile selezionare anche i tempi di diaframma, gli ISO e eventualmente poi anche lo zoom ed è tutto a portata di mano. Il suo assemblaggio con il Crane 3S avviene in modo estremamente semplice e sicuro agendo prima su un pulsante laterale per l'inserimento e dopo su una leva che andrà a bloccarlo e a tenerlo in sede. Con questo accessorio inoltre abbiamo un sistema di prese di utilizzo multiplo e quindi più sicuro, insomma, è estremamente consigliato. Ovviamente comunque non mancano chiavi a brugola, viti di chiusura di varie misure e una confezione con tutti i cavetti necessari sia per andare a ricaricare il gimbal che anche per andare a collegare le fotocamere compatibili o semplicemente per alimentarle con la batteria del Crane 3S stesso. E per ultimo naturalmente abbiamo lui, il gimbal vero e proprio, che ha i comandi posti sul fianco, almeno quelli principali. Troviamo infatti i tasti rapidi per scattare foto, per far ripartire la registrazione video, oltre che il pulsante mode che ci servirà anche per farlo entrare in stand bay ed eventualmente fare le dovute procedure di ottimizzazione attraverso l'applicazione. Tutte le slitte anche qui sono graduate, utili per andare a riposizionare tutto una volta che abbiamo fatto il setup iniziale e altra cosa da segnalare, il fatto che tutti gli assi sono bloccabili e quindi è possibile facilitare in questo modo di molto le procedure. Ma di questo naturalmente parleremo durante la recensione in cui vi accenneremo il suo utilizzo, tutte le funzioni disponibili, anche come si comporta poi sul campo. Questo è tutto, voleva essere un unboxing, farvi vedere cosa c'è all'interno della confezione e soprattutto dare a voi l'opportunità di farci qui sotto le domande del caso. Noi ci vediamo ad un prossimo video, un saluto da Daniele Pintus e da Notebook Italia.